Giro di vite del Comune contro l'evasione delle tasse comunali. A disporlo il settore tributi che ha trasmesso la Novares, agenzia che si occupa della riscossione, una lista relativa ai mancati pagamenti delle imposte municipali dal 2006 al 2014. Un tesoretto da circa 3 milioni che riguarda in primis la tassa sui rifiuti, che da sola vale 1,2 milioni di euro. A seguire quelle su immobili, le cosiddette ICI e IMU, pubblicità ed occupazione di suolo pubblico. Grazie a tutti.